Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati su Linfury Universe e benvenuti al terzo appuntamento di questa miniserie dedicata interamente alla storia dell'esplorazione lunare. Nella prima puntata abbiamo iniziato parlando di fasce di Van Halen e di come siamo riusciti a proteggere gli astronauti da queste regioni di radiazioni mentre viaggiavano fino alla Luna e anche di come faremo con le prossime missioni umane che se tutto va bene ci porteranno di nuovo sulla Luna negli anni venti. Nella seconda puntata invece abbiamo parlato dei programmi robotici che la NASA ha portato avanti negli anni sessanta che hanno fatto un po' d'apripista in vista delle missioni umane. Abbiamo visto quali sono state le difficoltà di arrivare con i primi robot sulla Luna e di quali sono stati i grandi traguardi che hanno portato avanti. Invece oggi ci dedichiamo finalmente a missioni umane e lo facciamo celebrando una delle più intrepide, decise, decise, beh tutte erano decise, non avevamo molta scelta, il razzo partiva da sotto quindi se non eri deciso era tardi, ma più meravigliose di tutto il programma Apollo, cioè Apollo 12. È un po' scordata, un po' all'ombra di Apollo 11 che è questo mostro enorme nella memoria collettiva perché è gigantesca ovviamente essendo la prima missione umana su un altro mondo, mentre Apollo 12 viene vissuta un po' all'ombra di tutto questo, ma in realtà c'è molto da celebrare per quanto riguarda Apollo 12, sia per quanto riguarda i suoi tre straordinari astronauti, per gli esperimenti fatti e perché sono riusciti a portare avanti il programma Apollo con nuove cose da aggiungere oltre a missioni Apollo 11. Quindi rispetto ai primi passi degli esseri umani sulla luna pochi mesi prima, loro portavano molti più esperimenti, hanno fatto molte più cose, addirittura due uscite sulla luna rispetto ad Apollo 11, quindi era di sua molto più complessa, ma come vedremo hanno anche affrontato delle sfide ingegneristiche non da poco per riuscire ad arrivare sani e salvi fino a lì. Ma andiamo con ordine e vediamo prima di tutto quali erano le motivazioni scientifiche dietro Apollo 12. Prima di tutto era riconfermare che Apollo 11 non era stato un caso. Da questo punto di vista, se siete curiosi riguardo Apollo 11, ho fatto un'intera lunga puntata a riguardo con tanto di razzo qui, l'ego gigante in cui vi ho spiegato le varie parti del razzo, come funzionava la missione, quindi se siete curiosi, ora non sto qui a ripercorrere tutto quello che riguarda il programma Apollo, quindi vi raccomando, il video sotto lo trovate per tutti i dettagli riguardo in generale programma Apollo. Però in quel caso vi dicevo che uno dei aspetti più importanti era arrivare sani e salvi fino a lì e poi tornare a casa con un po' di materiale roccioso eccetera, ma la parte scientifica era stata rimandata alle prossime missioni. Beh, queste sono le prossime di cui parlavo all'epoca. Quindi l'aspetto più importante è uno, confermare che non era un caso che davvero gli Stati Uniti sono in grado regolarmente di andare sulla Luna e riportare a casa sani e salvi i suoi astronauti. Poi, creare una mini base di ricerca robotica sulla Luna, che non era da poco, anche perché questa mini base avrebbe funzionato con un nucleo centrale nucleare, che è molto fantascientifico pensare che nel 1969 gli umani hanno costruito una base robotica nucleare sulla superficie della Luna. Però l'abbiamo fatto, davvero, è funzionato, ha dato un sacco di risultati scientifici strepitosi ed è stata montata dagli astronauti durante un'intera EVA, cioè un'attività extraveicolare sulla Luna. Addirittura, rispetto, come dicevo, Apollo 11, gli astronauti di Apollo 12 ne avevano fatte due di queste uscite sulla Luna. Un'altra cosa importante che avevano era una camera a colori. Rispetto ad Apollo 11, che aveva solo queste riprese sgranate in bianco e nero, avevano portato, grazie al contributo della Kodak, una nuova camera molto migliore che poteva fare delle riprese a colori. Poi vedremo com'è andata. Ci sono stati i piccoli problemini. C'era un'altra camera, tra l'altro, dentro il modulo di comando, quindi durante il viaggio, si vede poi mentre il modulo di atterraggio si avvicina verso la Luna e si sgancia. Se vedete quelle immagini, in basso si vede un pixel bruciato e quel pixel in realtà è fosforo, perché era su pellicola. E quel pezzo di fosforo bruciato in fondo alla pellicola era lì, anche nella missione Apollo 11, perché la camera è stata semplicemente ripresa, rimaneggiata un pochino, sistemata, hanno cambiato un paio di cose e l'hanno messa in Apollo 12. Quindi, per quanto ne so, è la prima camera che vola due volte fino alla Luna. Quindi, ecco, piccole cose nerd, così vi potete vantare. Sapete questa cosa. Fine. Non so come faccio a sapere cose così particolari. Passo il tempo a cercare cose strane che sono indugati, ma vabbè. L'altra cosa importante era fare sismologia sulla Luna. Infatti, uno degli esperimenti sarà quello di far schiantare in modo molto preciso il modulo di ascesa. Quindi, una volta che ritornano nel modulo di comando, quello con cui sono arrivati dalla superficie della Luna fino all'orbita lunare viene rilasciato e fatto schiantare sulla Luna in modo che crei un terremoto. E tutta la base che hanno stabilito prima misurerà quel terremoto. Fare intenzionalmente schiantare una navicella spaziale sulla Luna, anche questo non era stato fatto prima. Beh, oddio, in programmi robotici, ma un'interna navicella spaziale perumana non era mai stato fatto prima. Altra cosa molto importante era quella di visitare una missione robotica. Visto che parlavamo prima di missioni robotiche, Surveyor 3 era arrivato pochi anni prima, esattamente, due anni e mezzo prima, esattamente nella stessa zona dove andavano loro. E l'obiettivo era quello di allunare relativamente vicino, camminare fino a Surveyor 3, poi prendere alcuni pezzi da riportare a casa per vedere quanto e come è degradato il hardware durante la permanenza sulla Luna in vista della costruzione di cose più longeve nelle prossime missioni. Quindi volevano sapere, tipo, aveva un braccio robotico che si doveva estendere con uno strumento in fondo per scavare nel sottosolo e volevano vedere se queste pieghe erano ancora funzionanti, come si sarebbero degradate dopo due anni e mezzo sulla Luna. La missione non era più attiva, ma comunque quando sono arrivati loro era ancora esattamente lì dove era rimasta e è stato molto bello questo momento di ricongiungimento tra umani e la loro piccola creazione. Ora, la destinazione era l'oceano delle tempeste, Procerarum e in particolare Marconito che era chiamato così come mare conosciuto perché c'erano già state tre missioni qui. Luna 5 dell'Unione Sovietica, Surveyor 3 dai partiti degli Stati Uniti e Ranger 7, la prima missione che si era riuscita a schiantare nel solo lunare con successo. È perfetto per far schiantare un'altra missione lunare con successo sempre lì, visto che erano entrambe intenzionali. Dunque, abbiamo parlato di quali sono stati gli obiettivi della missione Apollo 12, ora vediamo chi sono gli astronauti che hanno portato a termine questa missione. I tre astronauti sono Pete Conrad, Richard Gordon e Alan Bean. Ma ognuno ha una storia diversa, completamente unica dietro e non riesco a raccontarvi in dettaglio tutto qui ma vi accenno piccole cose di ognuno. Il comandante di tutta la missione era Charles Pete Conrad Jr. Lui era uno degli astronauti con più esperienza alla NASA, aveva già fatto due missioni Gemini 5 e Gemini 11 e lui sarebbe stato nel ruolo che aveva Neil Armstrong in Apollo 11. Invece, quello che avrebbe avuto il ruolo di Michael Collins, cioè che rimaneva in orbita intorno alla Luna in attesa che gli altri due tornassero dalla superficie, era Richard Gordon. Al suo secondo volo nello spazio lui aveva già fatto Gemini 11 insieme a Conrad. Invece, il pilota del modulo lunare, al suo primo volo nello spazio, era Alan Bean, che immaginatevi voi se vi dicono la tua prima volta nello spazio non è solo nello spazio o in tutto altro, ma direttamente sulla superficie della Luna, nella seconda missione degli esseri umani sulla Luna. Quindi non con così tante certezze che andrà tutto benissimo. Il povero Alan infatti ha più volte fatto battute come, certo che di tutte le missioni questa mi toccava, però tutti e tre erano incredibilmente amici, si conoscevano da tempo, hanno lavorato un sacco tra di loro, erano tutti quanti della marina militare per cui c'era un senso di camaraderia. Rispetto all'occupaggio di Apollo 11, loro erano molto più, come dire, umani. Erano umani, vi assicuro anche Apollo 11, intendo che per il modo in cui scherzavano tra di loro erano molto più gioiosi. Apollo 11 erano molto più, tra di loro erano molto più professionali, erano molto più rigidi, non c'era molta chimica di grande risate tra loro tre. Anche se, anche se anche Apollo 11 ha avuto i suoi momenti, ci erano stati grandi momenti realizzati anche per quanto riguarda quello, quindi diciamo più o meno in media, poi dipende dai gusti. Vabbè, chiusa parentesi. Altre piccole cose che volevo raccontarvi di loro tre è che, per esempio, Charles Conrad, che era uno dei assonati più strepitosi che aveva la NASA, a cui ha messo in mano tutta questa missione, da piccolo soffriva di dislessia. Cioè, da piccolo è stata diagnosticata dislessia. Gli hanno detto che sarebbe meglio se cercasse un lavoro più umile, qualcosa che ovviamente poteva fare un bambino con questo problema e che non sarebbe mai riuscito a fare grandi cose. E invece è non solo diventato un astronauta, ma ha fatto alcune delle missioni più importanti della NASA, diventando uno dei pilastri classici del corpo dei astronauti NASA di quest'età. È andato sulla superficie della Luna, ha guidato la seconda missione umana sulla Luna, quindi ecco, alla faccia di chi diceva che doveva pensare a qualcosa di meno ambizioso. Quindi, se avete problemi di dislessia, non fattivi coraggiare, non fatevi dire da nessuno che non si può fare qualcosa o che siete in difficoltà, perché non c'è niente che non potete fare, perché se potete andare a comandare una missione lunare, ci può fare tutto. Fatto questo, tutto è in discesa. La seconda curiosità che volevo dirvi è che il povero Richard Gordon, che è rimasto in orbita intorno alla Luna, in realtà aveva una missione in cui lui sarebbe stato comandante e sarebbe sceso sulla superficie, che era Apollo 18, ma l'hanno cancellata. Quindi, niente. Alla fine, poverino, non ce l'ha mai fatta ad arrivare sulla superficie della Luna. Mentre Alan Bean proveniva da un clan scozzese. Beh, non lui direttamente, ma la sua famiglia proveniva dal clan McBean in Scozia. E quindi, quando lui è partito per la sua missione, si è fatto dare da quel del suo clan in Scozia un piccolo tartan con i colori del suo clan. Quindi ce l'aveva dietro fino al volo sulla Luna. Per cui, ecco, una prima di tartan della Scozia che arriva sulla Luna. Ok, quindi, queste sono le basi introduttive. Loro sono partiti il 14 novembre, dicevo, sono saliti sul Saturn V, che abbiamo qui illustrato. Eccolo qua. Il Saturn V sulla rampa di lancio. In realtà, tra l'altro, per Apollo 12 era già arrivato, mentre Apollo 11 era ancora in volo. Il razzo ci metteva un po' per arrivare una volta montato verso la rampa di lancio. Poi c'era tutta una serie di preparativi, integrazioni finali, cosine varie. Poi Apollo 12 sali in cima, si preparano. E nei giorni prima c'erano state grandi tempeste. Erano venti fortissimi. Il cielo si era un po' schiarito, ma molti erano in dubbio se lanciarono o no. Non si sapeva di preciso quanto sconveniva lanciare, però un po' il cielo si era schiarito. C'erano ancora venti fortissimi nella regione. Arrivavano fino a 280 km all'ora. E questa è stata la missione che ha lanciato con venti più alti tra tutte. Ora, è anche vero che servono dei venti molto forti per buttare di lato un razzo così grande e potente come il Saturn V. Però comunque, insomma, molti avevano i loro dubbi sulla sicurezza. Alla fine è stato deciso comunque di partire. Il grosso della tempesta sembrava alle spalle, quindi hanno deciso di dare il via. Una volta partito, tutto ha funzionato alla meraviglia. Tantissimi erano di nuovo in diretta per vedere la seconda missione e in tanti guardavano in diretta da casa. E mentre la missione partiva verso l'alto, dopo appena 36,5 secondi, il razzo viene colpito da un fulmine. Davvero! Questa, specialmente per chi non la conosce come storia, almeno quando l'avevo sentito la prima volta, hanno fatto avvenire i brividi. Immaginate di essere nel centro comando, guardare alla finestra, vedere il razzo che parte e poi vederlo colpito da un fulmine che passa attraverso tutto il razzo, si scarica attraverso il gas di scarico e colpisce poi per terra. Un intero fulmine ha attraversato il razzo e come si è sentito il razzo? Beh, mettiamola così. Il razzo ha continuato per conto suo senza problemi, ma si essono spente subito diverse batterie. Le celle combustibile non hanno retto, beh, hanno funzionato ma non hanno retto il sistema di controllo del voltaggio e quindi si sono spente per sicurezza, per non essere bruciate. E quindi la prima cosa che notano gli astronauti è che lampeggiano un sacco, cioè a parte la luce intensa e immediata, ma lampeggiano un sacco di errori di telemetria. Le telemetrie sono tutti quei dati che dicono la posizione, lo stato della tua nave cella, eccetera, eccetera. Sono tutte informazioni, diciamo, di base. Se l'avete presente in un videogioco di ruolo, oppure se giocate a D&D, telemetria sarebbero i stati, il vostro stato di salute, la barra di salute, il mana e quelle cose lì. Quali sono le vostre caratteristiche di base in quel momento. Mentre stavano cercando di capire cosa sta succedendo, 52 secondi dopo il lancio, quindi pochi secondi dopo il primo fulmine, viene colpito da un secondo fulmine. Ancora peggio, questa volta saltano altre batterie, salta l'indicatore di altitudine, salta l'indicatore che li posizionava sull'orizzonte artificiale, per essere sicuri che erano quelli inclinati nel modo giusto. A bordo ci sono tre batterie, A e B servono per l'andata e C serve per il ritorno. Le batterie sono posizionate nella navicella qui, ma ci sono altre batterie che sono scollegate e posizionate qui, in questa zona del terzo stadio, e queste continuano a funzionare. Il razzo in sé continua senza problemi. Il computer del razzo non succede, non gli fa un baffo. Quindi il razzo continua colpito da due fulmini. Questo è ancora più attributo di lavoro incredibile che è stato fatto per il Saturn V, che è un razzo che può prendere in pieno due fulmini e non se ne accorge neanche. Quello che se ne accorta è la navicella con gli astronauti dentro. Ovviamente poi da casa erano super preoccupati perché se con tutti questi errori che avevano, avevano solo 90 secondi prima di partire con la portomissione. Quindi per cancellare la missione e tornare di emergenza a casa avevano pochi secondi ancora. Mentre cercavano di capire cos'è che non ha funzionato, da casa giovanissimo John Aron, che era capo di una sottosezione di quelli che si occupavano della navicella chiamata EEC, che sta per Electrical Environmental Consumables, che era quello che si occupava dei sistemi elettrici e ambientali di mantenimento delle condizioni all'interno della navicella, si ricorda che durante una simulazione era venuto un problema simile, era venuto fuori un problema che somigliava. Non era la stessa cosa, per cui non sapeva se avrebbe funzionato al 100%, ma i secondi scorrevano. Nessuno aveva una soluzione in mente, tutti erano alla ricerca di qualcosa al volo da fare e non sapevano gli astronauti neanche quale switch preparare, cambiare, perché non è detto che funzioni o peggiori la situazione, quindi chiedevano a casa, allora che dobbiamo fare? E lui John Aron dice, switch SCE to AUX. SCE sta per Signal Conditioning Equipment, è tutta una serie di equipaggiamenti che gestivano l'accesso di corrente elettrica alle batterie. Switch, questo ADAUX significa cambiarlo in ausiliare, metterlo con la corrente ausiliare. E ha funzionato, questo ha funzionato per pochi secondi, mancavano ancora pochi secondi, ma cambiare questa switch ha riportato corrente alle batterie che hanno rifatto partire tutti i vari indicatori, quindi tutto si è tranquillizzato. Il razzo ha continuato il suo percorso, poi la navicella si sgancia dall'interno, continua verso l'esterno, rimane il terzo stadio, finiscono in orbita terrestre, prima di partire da qui fino alla luna fanno tutta una serie di verifiche per assicurarsi che tutto sia in ordine. Anche perché se c'è qualche problema evidente che potrà metterti in pericolo fino alla luna, meglio se torni a casa mentre sei in orbita terrestre. Avevano tutte le possibilità di ritornare sane e salvi a casa se c'era qualcosa di rischioso. Per cui prima di partire fino alla luna volevano essere sicuri che le batterie resistevano, che non c'era un problema con l'ossigeno, che non avrebbero avuto problemi con il lander, perché se poi dopo veniva fuori un problema dovuto al fulmine a cui non ci avevano pensato mentre erano sulla luna, beh non è il momento migliore. Però tutte le verifiche poi confermano che la navicella sta a posto, non ci sono rischi immediati, quindi anche se continuano a farle durante il viaggio comunque tutto sembra a posto. Appena arrivati in orbita tra l'altro, se potete sentire l'audio di tutta la missione, si mettono a fare battute su quanto è stato amore a primo colpo di fulmine, quanto la loro missione è iniziata in maniera fulminante, tutta una serie di battute terribili. Però li tira su un sacco di morale e come vi dicevo è a dimostrazione di che equipaggio strepitoso era questo. I loro tre insieme sono stati incredibili. Mentre loro fanno varie battute e continuano il viaggio fino alla luna, con dirette televisive in cui salutano tutti a casa eccetera, dicono che tutto è andato bene, anche gli equipaggi, il centro di controllo possono tirare un suo spiro di sollievo, i parenti e mogli, le moglie dei tre astronauti pure, perché immaginate voi di essere delle persone care, di uno dei tre guardare verso il raggio e potete vederlo colpito due volte da fulmini mentre se ne va verso la luna. E voi che pensavate che la parte pericolosa sarebbe stata la luna? Vabbè, comunque durante il viaggio quindi tutto a posto. Poi a un certo punto sganciano l'ultimo pezzo del raggio, quello che finisce in orbita, la seguiti fino a qui, se ne va in orbita solare e ancora là fuori, intorno al sole da qualche parte, mentre il 18 novembre, dopo circa tre giorni e mezzo fino all'arrivo, fino alla luna, arrivano alla luna verso UTC, cioè le 347 Greenwich, qui saranno state le 5 circa, le 4-5, forse le 4-47, quando si inseriscono in orbita lunare. Quindi non c'era una diretta ancora facile da seguire in Italia, perché le 4 difficilmente qualcuno lo stava guardando, ma magari sì, quindi chi so, qualcuno di voi del pubblico era vivo all'epoca e si ricorda di quando questa missione è arrivata in orbita lunare, la seconda volta che gli umani si preparavano a scendere sulla luna, ma la terza volta che gli umani orbitavano intorno alla luna. E una volta arrivati poi, l'allunaggio effettivo avviene il 19 novembre alle 6.54 UTC, quindi verso le 7.54 ore italiane, si preparano a scendere sulla superficie. Gordon rimane in orbita e scatta una serie strepitosa di foto in multispettrali della superficie. Questi servivano per capire la mineralogia diversa della superficie lunare e si occupa in particolare di mappare la zona sotto i tre astronauti, quindi la regione dove loro sono scesi, per capire le rocce che loro riportavano da casa, da che contesto geologico provenivano. E poi ritorna, fa le sue operazioni in orbita lunare, mentre i tre si preparano per scendere. Come tutte le altre missioni lunari, anche queste avevano dato dei nomi ai due moduli, quindi il modulo che rimaneva in orbita si sarebbe chiamato Yankee Clipper, mentre la sonda che scendeva sulla superficie era intrepida. Dato che i loro tre venivano dalla marina, hanno dedicato questi nomi a grandi navi della storia della navigazione. E infatti, se guardate anche il logo della missione, è uno dei miei preferiti in assoluto, perché è una nave classica, una Clipper con tanto di vele aperte verso la Luna, che a me ricorda molto il pianeta del tesoro della Disney, con le vele aperte e tutto il resto. Comunque, una volta arrivati nei pressi della Luna, ovviamente la diretta è molto emozionante di nuovo, loro si preparano a scendere, e questa volta, anche se sentite la comunicazione con casa, è molto diverso con casa. Beh, con casa, col centro controllo, ciao, mamma, sì, no, aspetta, non mi interessa la cena, no, voglio sapere, devo scendere sulla Luna. No, era, col centro controllo è molto diversa, perché continuavano a dire, dai, dai, sta andando bene, sta andando bene, in maniera molto più emozionale rispetto alla paura che c'era in un volo 11. C'è anche qui ovviamente tanta paura, ma c'è un'eccitazione travolgente per questo equipaggio. Arrivano sulla superficie sano e salvi, e sono molto precisi, molto più di quanto, anche troppo, di quanto dovevano, perché dovevano scendere nei pressi di Surveyor 3. Però l'obiettivo era scendere a circa 300 passametri da Surveyor 3, in modo che fossero sufficientemente vicini da arrivare a piedi, ma non troppo vicini da poterlo, blastare con la sabbia. Ed è quello che hanno fatto, purtroppo. Sono scesi così precisi ad essere a solo 183 metri da Surveyor 3, e quindi la sabbia sollevata, la regolite sollevata dai suoi motori, ha un po' tolto la polvere che si era accumulata, tutta la regolite che si era accumulata, su uno dei lati di Surveyor. Ma non è un problema grosso, non ha danneggiato Surveyor in nessun modo, l'unico problema è stato che i geologi volevano vedere quanta polvere si accumulava sul lander in condizioni normali, senza che ci fosse qualcosa nelle vicinanze. Quindi quando resta una cosa sulla luna per tot anni, quanta polvere si accumula sopra. Invece così i dati erano un po' falsati, per il fatto che era stata lanciata tutta sta polvere in quella direzione, ma comunque il getto ha tolto la polvere da una parte del lander. Quindi vabbè, però comunque erano molto molto precisi, è la missione più precisa di tutte quelle fatte sulla luna. Una volta arrivati, Conrad si prepara per scendere per primo sulla superficie della luna, Alandine lo riprende, e poi dopo scendono entrambi sulla luna, e iniziano a fare il loro passeggiato. Una delle cose più belle è che il primo passo del secondo equipaggio sulla luna inizia con una scommessa fatta da Conrad con Oriana Fallaci. Molto tempo prima, durante un'intervista agli astronauti, Oriana Fallaci aveva chiesto a Conrad, ma senti questa storia delle prime parole di Neil Armstrong, del primo passo, se non è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità, in realtà gliel'ha scritturata la NASA, vero? Cioè non è che uno sceglie così quello che vuole dire. Lui ha detto, no, 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 davvero, la NASA ci lascia liberi di dire quello che vogliamo. Tutto. E Oriana Fallaci non era convinto. Allora fanno una scommessa per 500 dollari, in cui lui gli dice, ora ti dico quello che dirò sulla luna, e se poi dopo dico la stessa cosa, mi devi 500 dollari. Poi lui è arrivato sulla luna, e la cosa che ha detto è stata davvero, allora appena sceso è stato, upi! Fantastico. Per la seconda cosa è stato, sarà anche stato un piccolo passo per Neil, ma è un grande balzo, è un grande passo per me, è un passo molto grosso per me, perché lui era più basso. E quindi si è lasciato cadere, è stato anche stato piccolo per Neil. E l'ha detto davvero, esattamente quello che aveva detto a Oriana, che non ne ha mai dato soldi indietro. Quindi, vabbè, qualcuno gli deve 500 dollari a Conrad. una volta sceso, poi è arrivato anche Alan Bean, tra l'altro uno dei primi commenti, mentre sono in giro, perché Conrad cerca di fare il serio a un certo punto, mentre si muove sulla superficie, dicendo sono sulla superficie della luna, poi si distrae un secondo e dice, uh, è tutto sofficio qui. Si mettono a ridere insieme, c'è Alan Bean che cammina sulla luna, facendo, canticchiano, ora non ho più voce, ma comunque, canticchiano sulla luna, si fanno gli scherzi a vicenda, e mentre ridono e scherzano, fanno anche un sacco di cose strepitose, molto molto difficili, come per esempio, come dicevo, montare un'intera base robotica sulla superficie della luna, con un modulo centrale nucleare, con tante piccole sonde intorno, che prendono energia da lì, e questa mini stazione si chiamava ALCEP, che sta fa per Apollo Lunar Surface Experiment, Package, e è stata montata a circa un centinaio, 150 metri di distanza dal lander, è stata poi ripresa tutto in terra, e ha funzionato poi molto dopo, anche come dicevo, come sismografo, per vedere quando avrebbero schiantato il lander, scusate, il modulo di ascesa sulla superficie. Ridendo e scherzando, dovevano anche montare la camera a colori, vi dicevo che era una grande innovazione da questo punto di vista, il problema è che, non hanno mai fatto pratica con queste cose sulla terra, quando la NASA gli faceva fare pratica, sapete con cosa provavano? Con pezzi di legno. Eh no. Per cui non è che poteva dare grandi colpe al fatto che poi, Alan, quando stava cercando di sistemare la camera, Alan Bean, per sbaglio la punta verso il sole, e quindi si brucia il sensore, e quindi dopo una quarantina di minuti a colore sulla superficie della luna, la seconda camera purtroppo ci lascia. In realtà poi dopo gli ingegneri stanno cercando di capire come poterlo sistemare, quindi gli dicono di toccare qualcosa, di spostarla, e loro stessi non sanno come poterla riparare diretta sulla luna, e in realtà a quel punto solo metà è bruciata, non è troppo dinaggiata, ma mentre Alan cerca di ripararla, la punta è di nuovo verso il sole, quindi c'è anche un riflesso che arriva in realtà dentro la camera, da uno dei pezzi dell'under stesso, che rifletta la luce verso la camera, ma è un po' difficile. La NASA dopo questo problema modificherà il design un po' della camera, e aggiungerà una protezione, in modo che gli astronauti la possono portare e puntare dove gli pare, ma solo quando sono sicuri possono togliere questa protezione. E' una di quelle cose che dici, vabbè ma non era ovvio, e a quanto pare no. Comunque la camera a colori è andata, e così è andata anche la diretta televisiva, quindi le persone che erano a casa ed erano pronte a seguire questa missione, dopo pochi minuti si ritrovano, niente segnale, solo audio. Quindi ognuno chiude la tv e se ne va verso il proprio lavoro. E' una missione che è iniziata con colpi di fulmine, è continuata con colpi di sole, e continuiamo i colpi, come vedremo, finirà con colpi in testa, ma a quello ci arriveremo. Poi, una volta fatta la prima escursione, ritornano dentro, devono mangiare, in realtà si lamentano del cibo, non è granché il cibo sulla luna, poi faranno un sonnellino, sono molto entusiasti di tutte le cose che devono fare, quindi dormono un po' male con la NASA che dice, dormite, stile bambini, allora vengo lì e vi tolgo i cellulari. Però alla fine si addormentano, quando ritornano per la seconda passeggiata, devono andare alla Surveyor, fanno un'escursione lunghissima fino a Surveyor, e ci sono queste foto strepitose di questa sonda, lontana, sulla superficie, e Alan Bean si era portato da casa un timer, ad aggiungere la telecamera, per poter scattare foto, da lontano, quindi in pratica è un'auto, per farsi le foto da sole, Quindi lui voleva aggiungere la fotocamera, posizionare la fotocamera sulla superficie, e poi allontanarsi insieme a Gordon, vicino a Conrad, con Conrad scusate, povero Gordon, purtroppo era in orbita, andare insieme a Conrad, vicino a Surveyor, e farsi una foto insieme, senza dire niente alla NASA, per fare uno scherzo a chi seguiva a casa, per cui sarebbero arrivate queste foto alla NASA, di loro due, con la foto, e l'avrebbe detto, ma questo come è possibile? Chi aveva fatto la foto? Ah, e la NASA avrebbe detto, è tutto un complotto, diteci, dove avete registrato queste cose? Timer, un piccolo timer, quindi niente, alla fine purtroppo non trova il timer, quindi purtroppo una delle foto più epiche, di tutti i programmi Apollo, tutto il programma Apollo, purtroppo non è mai potuto essere scattata, però ci sono delle illustrazioni, delle illustrazioni in computer grafica, che mostrano come sarebbe potuta essere, e ci possiamo accontentare solo di questo, dopodiché cosa succede? Mentre Gordon sta facendo le sue riprese, dall'altro loro finiscono di sistemare le ultime cose, strappano dei pezzi dal surveyor, per portarle a casa, e questa cosa mi ha sempre fatto un po' piangere il cuore, perché mi immagino che questa piccola sonda, che pensano, oh Dio sono arrivati gli umani, mi riportano a casa, sono stata una brava sonda, vero che sono stata brava, ho fatto tutto quello che mi avete chiesto, ora possiamo tornare a casa, e loro arrivano, e invece di portare, gli strappano un braccio, gli strappano un occhio, la camera, e ti ritornano a casa, e il resto rimane lì, quindi, povera surveyor 3, mentre queste due cose invece sono ancora in museo, esposte sulla terra, poi, ecco, altra piccola cosa, mentre loro stanno facendo i vari lavori sulla terra, i loro colleghi, che sono dell'equipaggio di riserva, che li ha accompagnati durante tutta la preparazione, eccetera, che sarebbe stato l'equipaggio per un'altra missione, gli fa degli scherzi, cioè, gli hanno messo dentro i tacquini, dove trovavano tutte le informazioni, per poterle vedere, cosa dovevano fare, e tipo, avete presente i Pip-Boy? Uguale, quelle del Fallout, di Fallout, della saga di Fallout di videogiochi, no? Quella cosa, ma solo sul braccio e in carta, e quando sono sulla luna, girano pagina, a un certo punto vedono delle scansioni, Xerox, di ragazze Playboy, sulla superficie della luna, e gli hanno messo lì, come, come, con battute sotto, come, come sono le curve, delle colline sulla luna, e altre battute così, gli hanno messo due o tre, gli hanno messo tra l'altro, anche in un tacquino apposta per Gordon, quindi anche lui se le ritrova in orbita intorno alla luna, ognuna con delle battute dedicate, è una strana storia, ve le lascio sotto, se volete vedere direttamente, andate a vedere, ci sono, anche su Wikipedia, mi sembra che siano le scansioni, poi, una delle ragazze, che era finita sulla copertina di Playboy, che finisce, sulla luna, poi dopo viene avvisata, lui non sapeva niente, quindi immaginatevi questa ragazza, che era, nella sua vita quotidiana, quindi non gli interessava neanche particolarmente, la luna, poi qualcuno gli dice, ma non sai che sei sulla luna, c'è una tua foto, in questo momento, sulla luna, e questo, da una parte, è fantastico, fa un sacco ridere, dall'altra parte, la cosa che mi ha fatto sempre fare, cringiare un po', è che, questa è l'unica presenza femminile, di tutto il programma Apollo sulla luna, ragazze, cioè, tristezza proprio appallate, ma, vabbè, stendendo un velo su tutto questo, tornando a, era un periodo estremamente sessista, però, di questo ne parleremo magari in un altro video, tornando a noi, sistemati i sismografi, si preparano per tutto, entrano dentro la navicella, e si preparano a partire verso casa, la missione si, parte di nuovo, verso l'orbita terrestre, verso, scusate, l'orbita lunare, e poi, come dicevo, si sgancia dal modulo di ascesa, dopo essere passato nel modulo di comando, entrano nel modulo insieme a Gordon, e tutto il resto, questo modulo di ascesa viene fatto schiantare, nelle vicinanze, e il terremoto viene registrato con successo, dalle sogni robotiche, e una delle prime scoperte, che la luna, riverbera, si muove per quasi un'ora, che è incredibile, che per un'ora intera ha continuato a vibrare, sono alcune delle prime scoperte, sulla geologia interna della superficie, della struttura interna della luna, durante il volo, si accorgono che sono dimenticati delle pellicole sulla luna, in realtà, ce ne sono un sacco di piccole cose che hanno lanciato sulla luna, anche Alan Bean a un certo punto, lancia le sue spille d'argento della marina, che aveva dato, perché ne riceverà le ali da astronauta, quindi aveva le ali d'argento, ma ora, come spesso facevano, quando prendevano quelle del grado superiore, quelle altre le lanciavano in mare, lui le lancia sulla luna, quindi, ci sono ancora la spilla in argento di Alan Bean, e da qualche parte sulla luna, nel mare Mariconito, mentre ritornano, preparano tutto per l'arrivo a casa, tra l'altro si stanno portando con loro 34,4 kg di rocce lunare, arrivano in orbita terrestre, si preparano per scendere, e tutto funziona bene, arrivo verso il mare, tutti i paracaduti, eccetera, solo che durante l'impatto, mentre loro sono nella navicella, una delle camere che avevano sopra di loro, si sgancia, si toglie dal supporto, e cade in testa ad Alan Bean, che perde sensi, quindi quando lo tirano fuori, sembra morto, quindi, che fa un sacco paura, immaginate, quindi non sapeva nulla di tutto questo, con gli altri due, che ridevano e chiedono, no no, vivo, vivo, lo portano fuori, il povero Alan Bean, ha avuto una sfortuna con le fotocamere, non solo ha bruciato la fotocamera, ha dimenticato le pelicole, si è preso anche una fotocamera in testa, al rientro, poi dopo è tutto sano, tutto apposta, solo che se lo vedete nelle foto, c'ha delle cose appiccicate alla testa, poi per, credo che abbiano messo dei punti, poi infatti, appunto per questo, si dà alla pittura, di fare al pittore per il resto della vita, perché basta fotocamere dopo questo, e ha fatto dei dipinti anche di, come sarebbe stato lui e Conrad, vicino a Surveyor 3, e ci sono un sacco di riprese bellissime di, di loro due insieme, di loro tre insieme come grandi amici, per cui, se non conoscete la missione, questo è stato solo un breve riassunto, ma ve' sicuro, c'è molto più da raccontare di Apollo 12, e quindi andate a spulciare, sotto vi lascio le fonti, per andare a curiosare per il resto, beh, questo è stato tutto quanto, per il breve racconto, riguardo ad Apollo 12, spero che vi sia piaciuta, questo è comodo, è comodo usato un 5 come supporto per le mani, dovete usarlo sempre, e ultima cosa che volevo menzionare, ci sarà una serie di video, che uscirà come avevo già anticipato, di risposta, riguardo ad American Moon, di Massimo Mazzucco, riguardo al fatto che non siamo mai andati sulla Luna, ora, non vi anticipo le cose, potrei dire un sacco di cose, cerco di tenervele per quella risposta, volevo solo dire una cosa, Alan Bean a un certo punto nel documentario, si vede perché dice, che non si ricordava dove erano le fasce di Van Allen, e visto che c'era Alan Bean, vi ricordo di questo, perché mi ha arroso tanto, è uno dei miei estrotti preferiti, quindi ero lì a inviare, no, povero, ma come, Alan Bean era molto abile come pilota, era uno dei migliori, per quello era il primo volo, già mandato sulla superficie della Luna, perché era uno dei più strepitosi, per cui mi è pompeanto il cuore, il fatto che abbia fatto in quel video una figura, solo perché non si ricordava dove erano le fasce di Van Allen, quando in realtà per gli astronauti non era un problema, perché erano già stati dimostrati con sonde robotiche, prima che non sarebbe stato pericoloso per gli esseri umani, vista la velocità e l'orbita che dovevano passare, quindi erano ben protetti, dentro la navicella ne abbiamo già parlato abbondantemente, guardate il primo video, tutto qui, e vi ricordo che poi a dicembre, periodo natalizio, e poi poco dopo, insomma, durante le feste, usciranno questi video, in cui spiegherò meglio tutto quanto. Ci vediamo presto, un grande abbraccio, continuate ad essere meravigliosi, e fatemi sapere sotto, cosa ne pensate di questa missione, qual è la vostra preferita, delle missioni Apollo. Ciao! Eccoci arrivati nella handcard, colgo solo l'occasione del volo per ringraziarvi di cuore, per tutto il supporto per Patreon, perché tutti questi lunghi video, in questa settimana speciale, per concludere un anno incredibile, sono possibili grazie a voi, perché senza il vostro supporto, non riuscirei a passare tutto il tempo di ricerca minuziosa, per preparare video così vasti, e visto che molti mi avete sempre detto che adorate i video lunghi, in cui posso andare in piccoli dettagli riguardo a queste cose, e ci tengo tanto anch'io, che mi piacciono molto anche a me, ma non sarebbero possibili senza di voi. Quindi grazie di cuore a tutti voi su Patreon, perché questi esistono grazie a voi, quindi tutti i soldi che mi avete dato, in questi mesi che hanno sostenuto l'esistenza stessa del canale, hanno contribuito a rendere possibile questa serie, quindi questa è stata nata, è nata proprio grazie a voi, quindi tanti cuori. Grazie ancora del sostegno, e spero che questo sia solo l'inizio, e potremo insieme fare tanti altri progetti e miniserie del genere, qui a dare molto in dettaglio riguardo ad altre serie, altri momenti della storia dell'esposizione spaziale e della scienza. Fatemi sapere sotto anche se avete altre idee di miniserie simili che vi piacerebbero in futuro, e poi inizio ad lavorarci. Grazie ancora, vi abbraccio fortissimo.